Niente, c'è stata poco fa questa nuova ordinanza del Presidente De Luca che da quando ci sono state le elezioni, che era proprio una maniera, che era fresca, che era proprio attiva. Prima dell'elezione, non lo so, poi che si è abbattuto, poi che si è muoce su, buona scuola, io vorrei, buona scuola. Ma invece è diventata una domanda che tu, ma poi mi è elezionata, l'elezione fa un miracolo, perché quello è stato tutto, pare pure con il virus, ero più tranquillo, fino all'elezione. Allora, dopo l'elezione, non c'è capito più niente, su videos, siete andati come i cani e i cani scevoli, che è un marco, è la vita aggressiva. Vabbè, comunque ha detto, stoppiamo la vita, accoglirci, non sanno pori, fanno pure male, o fai delle ricerche, ecco, i teatri, i teatri, non le proprio pensate, ma, figo, hanno proprio pensato, proprio di faticare, quindi non c'era questo pensiero, banchetti, festeggiamenti, si possono invitare, al massimo, 20 persone. Questo è il problema, perché la decorrenza è immediata, cioè, su fatto, succede subito, cioè, uno che si deve sposare domani, può metter 20 persone, cioè, lui deve, diciamo, il matrimonio, è proprio medico, cioè, si può fare fine, che di là, la puoi sottolineare, se no, a me è fine, a me non è che mi cavo, a me c'è, sono 150 barra 180 abitati, ma, su scusa, come fa a chiamare i parenti, e dire, 160 di voi non possono venire, cioè, come se fa a selezioni, il living, cioè, in base a che cosa, ma metti un'altra normativa, nell'ordinanza, che dice, per esempio, poi, saranno prescetti, i parenti, che nell'ultimo matrimonio, di famiglia, hanno messo, più soldi, da busto, oppure, uno va negli archivi, dei matrimoni, le famiglie, e c'è pescetta, e la cia cammella, la cia cammella, sapo come va, viene lei, un po' come ciò, spiego, per accia di dire, su fatti, che, cioè, ci sarà il distanziamento sociale, sicuro, che sapisce, che le famiglie, quindi, su quattro e ci faccio, quindi, ci sarà il distanziamento, però, è un problema, presidente, se cosa si fanno, ognuno che muo, ognuno che vengono, proprio, perché, che ha mostrato il virus, oggi, è cresciuto, a dimana, a suo matrimonio, succede, molti riferi, cioè, è una cosa, che si è fatta, un po' prima, no? Lo so, dopo la decisione, non è stato più frisci, e quindi, vale un'inverno, che fa l'ordinanza, però, è un po' prima, bisogna anche, guardare queste cose, perché, se no, succede un problema, proprio, perché, chi li, poi, era preparato, un banchetto, che scende, tutt'anni, tutto, mangiato, e lì, c'è la cattaccia, per domani, capito? Quindi, poi, che non fanno? Cioè, che li vanno, se ne mangiare, un magnesio, tutto, andava su, e la obesità, dove la mettiamo? Poi, la mamma, no? La clinica, che si è fatta, no? Cioè, se non so, che problema, che si è fatta, io, so che, se è più frisci, però, vabbè, non si può ballare, non si può ballare, pur si può andare, metropolitale, la persona, sta molto vicinando, da saccare, e, avesma, tu vuole, e quando tu vuole, è come se si sta ballando, allora, la musica è un problema, e la musica è un problema, presidente, si può sempre corriscire, però, l'ordinanza, cioè, si può anche, perché si, sicuro si, vieni tu, ah?